Una darsena degna di questo nome secondo me può fare invidia a altre darsene perché non ci manca niente, sta sotto i piedi del rione Terra, abbiamo la storia proprio qui. Sabato mattina sulla darsena di Pozzuoli è stato compiuto il secondo intervento di bonifica che ha riguardato le scogliere che delimitano lo specchio d'acqua a ridosso del rione Terra. L'azione che segue di dieci giorni la pulizia del fondale è stata promossa dall'assessorata all'ambiente del comune di Pozzuoli in collaborazione con le associazioni San Procolo, darsena, Nettuno e di portisti putiolani. È un posto bellissimo, unico al mondo e l'amministrazione di Pozzuoli ci tiene particolarmente a questo meraviglioso posto sia dal punto di vista pasaggistico sia dal punto di vista naturalistico e quindi tra poco partiranno anche dei lavori di ristrutturazione in questa zona. Nel frattempo l'assessorato all'ambiente comunale insieme alle associazioni del territorio, l'associazione San Procolo, Nettuno, Pesca dilettantistica e darsena stiamo provvedendo alla pulizia delle scogliere dopo aver fatto già la pulizia dello specchio d'acqua. Ringrazio anche i servizi comunali, la Devizia, l'associazione Ange e tutte quante le associazioni che collaborano con noi volontaristicamente sul territorio. I volontari hanno rimosso bottiglie di plastica, cartacce e rifiuti vari dagli scogli ed estirpato erbacce e rovi lungo l'intero perimetro che circonda lo specchio d'acqua. Sul posto anche i dipendenti comunali e gli operai della Devizia che hanno trasportato nei luoghi di smaltimento il materiale prelevato. Una sinergia vincente è quella tra amministrazione comunale e associazioni del territorio che da anni operano per la pulizia di quest'area. Con l'aiuto dell'amministrazione, nella versione del sindaco Vincenzo Figliolia, ma anche dell'assessore adesso che si sta impegnando perché è la nuova amministrazione, noi stiamo già con le vecchie amministrazioni facendo questo percorso, voglio dire, all'epoca era Franco Gambino che si è messo pure a disposizione insieme al sindaco per le cose che ci servono più spicciole, buste per mettere il materiale, gli uomini della Devizia che vengono a ritirare poi tutto il materiale. Contiamo, speriamo di avere alcuni atti che è di competenza dell'amministrazione comunale, che ci fa chiudere questo discorso delle autorizzazioni al pontile mobile, così avremo modo di vedere non solo più in questo modo, ma dei pontili. Ma l'impegno costante del comune e delle associazioni non può bastare, è per questo che l'assessore all'ambiente Fiorella Zabatta rivolge un appello ai cittadini di Pozzoli ed in particolare ai fruitori di questa splendida area putiolana. Spero che tutta questa attività delle associazioni sul territorio sia da monito a tutti i fruitori dell'area affinché, insomma, per una maggiore civilizzazione, insomma, affinché queste pulizie si facciano ma si trovi sempre meno materiale all'interno. Per l'amministrazione comunale è presente il consigliere Pafundi, sono una delegazione dei Verdi, insomma, siamo tutti quanti qui uniti per fare in modo che avvenga questo e per fare in modo che questo posto venga rispettato, sempre in sinergia tra tutte le parti.